Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla regolamentazione dei comitati di quartiere presenti sul territorio gelese. E' quanto chiesto dalla giunta municipale al fine di riconoscere loro un ruolo importante nelle attività di scelta e condivisione delle decisioni della pubblica amministrazione. Regolamentare i comitati di quartiere presenti sul territorio cittadino riconoscendo loro un ruolo importante nelle attività di scelta e condivisione delle decisioni della pubblica amministrazione. E' quanto chiesto dalla giunta comunale e i rappresentanti dei comitati che si sono dati subito ad affare hanno già predisposto una bozza creando delle vere e proprie aree. Per dare un riconoscimento giuridico ai comitati di quartiere, quindi già questo è un primo passo importante. E in secondo luogo perché abbiamo anche lanciato la proposta del bilancio partecipato, quindi la delimitazione di nuove aree urbane consentirà di dividere queste somme, nel caso di regolamento che si è approvato, tra tutte le nuove aree urbane e quindi permette alla cittadinanza di partecipare attivamente alla gestione, nelle scelte per quanto riguarda le somme da investire per la manutenzione di tutti i quartieri. Questa è una vostra idea che poi dovrà essere soffregata dal Consiglio Comunale? Proprio per questo noi lunedì presenteremo ufficialmente questa bozza al Consiglio Comunale consegnando appunto la nostra proposta al Presidente del Consiglio Comunale. Successivamente chiederemo di incontrare tutti i capi gruppo così da esporre loro la nostra iniziativa e sperare insomma che tutti i consiglieri accettino questa volontà perché è una volontà che parte dal basso del popolare. Dunque una vera e propria partecipazione popolare che rappresenta la democrazia partecipata della comunità. Saranno inglobate, praticamente non le chiameremo più dei comitati ma le chiameremo delle aree perché avranno tutti lo stesso diritto, tutte quelle che fanno parte in quell'area e quindi non ci sarà nessuna condizione nel senso di dire ma io sono in più, sono in meno come numero di popolazione. Noi stiamo cercando di fare questo perché in realtà vogliamo lasciare qualcosa di buono dal momento in cui non ci saremo perché giustamente dopo ci saranno le elezioni regolarmente quindi ci sarà una procedura e poi la partecipazione per quanto riguarda i comitati è una cosa molto seria, una cosa che non si è mai verificato nella nostra città. Ma questo cosa vuol dire? Che cambierà anche la denominazione del quartiere? No, può dire che vive nell'area di Cocarubazzo come Mambria, come Machitella però può dire benissimo che sono nell'area numero 1, 2, 3, quella che è quindi non ha nessuna difficoltà di poter inserirsi in quell'area oppure denominarsi per come appartiene nella propria area. Adesso tocca al Consiglio Comunale dare il benestare. Sì, ora la palla passa a loro. Speriamo che i consiglieri accettino la volontà popolare perché sostanzialmente noi come comitati di quartiere all'unanimità abbiamo approvato questa bozza. La gente spinge perché comunque ci fanno pressioni al riguardo perché sentono che non importa nessuno di partecipazione. Quindi spero che sia un'occasione e che tutti i consiglieri colgano e portino avanti. I comitati che si battono per il passaggio alla città metropolitana di Catania scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un'audizione e per segnalare quello che definiscono un sopruso ed uno sfregio alla democrazia. L'audizione viene chiesta per discutere di variazioni territoriali dell'ente intermedio in Sicilia. Nella lettera si legge che da svariati decenni le comunità di Gela, Niscemi e Piazza Medina cercano una collocazione in un ente intermedio diverso dall'attuale. L'occasione viene fornita dal legislatore siciliano con l'istituzione dei liberi consorsi che consente ai comuni di poter emigrare da un libero consorzio a un altro. Nel momento in cui le città di Gela, Niscemi, Piazza Medina, Ligodia e Obea completano il difficile iter di migrazione, secondo i parametri della legge promulgata dal Parlamento siciliano lo stesso Parlamento sposta l'asticella più in alto chiedendo una nuova prova alle quattro città e con la legge regionale 15 del 2015 che si chiede nuovamente ai comuni di deliberare perché l'impianto della legge regionale 8 del 2014 prevedeva 9 liberi consorsi più 3 città metropolitane mentre la legge regionale 15 del 2015, 6 liberi consorsi e 3 liberi consorsi che costituiscono le tre città metropolitane. Dopo la seconda delibera che tutti e quattro i comuni hanno prodotto bisogna soltanto prendere atto della volontà dei comuni e dei cittadini ed approvare la legge però ciò che per i cittadini appare semplice e naturale diventa difficile nel momento in cui l'esame della prima commissione all'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio scorso da parere negativo tradendo i consigli comunali e cosa ancora più grave il volere popolare espressosi attraverso il referendum confermativo. Ora come dicevamo i comitati hanno scritto al capo dello Stato. Cambiamo argomento con le nostre telecamere questa mattina siamo stati al cartodromo di Contrada Zaia Gela la struttura è abbandonata a se stessa a sit in dei componenti di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Il cartodromo di Contrada Zaia Gela versa in stato di abbandono chiuso da anni è divenuto un vero e proprio ricettacolo considerata l'ottava vista nazionale la prima del sud Italia vederla ridotta in quel modo ha spinto i componenti della sezione Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale a organizzare un sit in di protesta ma come mai il cartodromo è ridotto in queste condizioni? Dovremmo girarla questa domanda a chi è stato presidente della provincia regionale di Caltanissette per lungo tempo e guarda caso due gelesi e capire per quale motivo questa struttura che doveva ed è stata ed è nata come una delle strutture più grandi del meridione d'Italia è ridotta a discarica di amianto ed è ridotta a scuole guida ripeto senza nulla o nulla contro le scuole guida però certamente questa struttura non è nata né per essere discarica di amianto come avete benissimo ripreso né per fare la scuola guida questa struttura è nata perché doveva servire non solo al territorio come un rilancio economico di questo nostro martoriato paese ma quindi avere un pochino quelle finalità che un cartodromo con lunghezza e dimensioni del genere avrebbero dovuto avere e che non hanno Sindaco, visto che ora sei il primo cittadino di questo paese sei pregato di attivare tutte quelle procedure affinché il cartodromo che è struttura provinciale assieme al palalivatino diventino strutture comunali perché in questa maniera si andranno a perdere ormai sono in preda al degrado più totale e più assoluto chiediamo che immediatamente venga rimosso l'amianto e la pista venga utilizzata per gare internazionali ricordo a tutti che la pista ha una lunghezza di ben 1260 metri con una larghezza di 8 per cui qualsiasi gara a livello internazionale nel territorio di Gela è possibile farla questa attirerebbe centinaia, anzi migliaia di turisti che portano sviluppo e occupazione domani Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale presso i muretti di Macchitella continuerà nella raccolta delle firme al fine di aprire i cantieri dell'autostrada Gela, Ragusa, Siracusa siamo profondamente dispiaciuti circa le dichiarazioni del Vice Sindaco in merito alla conferenza dei servizi che si è tenuta a Palermo purtroppo rileviamo una continua incapacità nel confrontarsi con i consiglieri comunali ed una certa stizza nei confronti del normale svolgimento delle nostre funzioni riteniamo che alla base ci debba essere un riconoscimento ed il relativo rispetto del nostro ruolo piuttosto che continuare a dare la percezione che fare un regolare accesso agli atti sia un atto illegittimo o che non rientri nel nostro dovere di svolgere al meglio le nostre funzioni di rappresentanti dei cittadini riscontriamo un costante polemizzare in modo sterile scendendo oltremodo a livello personale prescindendo di conseguenza dal ruolo istituzionale è quanto si legge in una nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela in merito alla vicenda Porto Andremo Cauti si legge ancora se fossimo il Vice Sindaco nel parlare di frenesia o peggio di Stato di Trans purtroppo noi conosciamo perfettamente gli itali procedurali avendo lavorato per anni come volontariato per il bene del territorio chi invece da prova di sconoscerli è proprio l'amministrazione visti gli atti prodotti e l'abuso di ordinanze registrate ad oggi c'è una totale confusione tra quello che è un progetto preliminare e quello che può essere definito esecutivo per non parlare del parere di conformità che avrebbe erodo dato per inserire il progetto nel piano regolatore generale infatti si legge ancora si tratta del progetto del megaporto di 150 milioni di euro per il quale si aspetta la conclusione del leader autorizzativo il progetto preliminare redatto dalla protezione civile si è dovuto agganciare nella rimodulazione del braccio di ponente a quello già calato all'interno del piano in ogni caso sottolineano i grillini non abbiamo avuto riscontro di questo parere da parte dei funzionari del settore urbanistica sarebbe il caso che l'amministrazione accettasse il ruolo dei consiglieri di controllo politico-amministrativo degli atti che possono avere una ricaduta sul territorio anche se inerenti a attività private e si è tenuto ieri ad Augusta il workshop denominato Italia Hub del Gas Naturale opportunità GNL per i trasporti marittimi nel Mediterraneo al circolo ufficiale della Marina Militare Vandone erano presenti anche il sindaco di Gela Domenico Mersinese e l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano l'iniziativa ha analizzato lo stato dell'arte degli usi marittimi e delle infrastrutture per il metano liquefatto con particolare riferimento all'area del canale di Sicilia e del Mediterraneo centrale nell'ambito dell'impegno italiano di UNAB Euro Mediterraneo del Gas Naturale liquefatto il sindaco ha sottolineato di essere rimasto positivamente sorpreso dalla posizione favorevole del sindaco di Augusta Maria Concetta Di Pietro e dell'onorevole Davide Crippa entrambi pentastellati al di sopra dunque di ogni sospetto sull'ampliamento delle banchine del porto di Augusta e sulla possibilità di realizzare un ricassificatore GNL all'interno dello scala questo ci rincuora perché evidentemente contrariamente alla posizione integralista di alcuni consiglieri grillini di Gela la nostra direttrice politica di far divenire alla città un riferimento strategico sul Mediterraneo con la realizzazione di una stazione di ricarica GNL per navi e mezzi pesanti mossi con motori a doppia alimentazione coincide con la linea del Movimento 5 Stelle Cambiamo ancora una volta argomento il nuovo piano urbano di mobilità del Comune di Gela che ha portato nei giorni scorsi ai cambiamenti di diversi tratti delle arterie stradali cittadine ha scatenato un putiferio di polemiche e contestazioni se ne è parlato ieri sera ad Agorà condotto in studio da Franco Gallo nuovi sensi di marcia e polemiche a go go il nuovo piano urbano di mobilità del Comune di Gela che ha portato nei giorni scorsi al cambiamento di diversi tratti delle arterie stradali cittadine in particolare quelle che ruotano attorno al centro storico hanno scatenato un putiferio di polemiche e contestazioni fino al punto da indurre un partito l'UDC locale ad intimare una petizione popolare per indurre l'amministrazione comunale a ritornare sui suoi passi almeno per ciò che riguarda il tratto di corso Salvatore Aldisio che va dai quattro canti e che porta fino alla villa comunale Garibaldi prima a doppio senso di circolazione ed ora a senso unico nella fattispecie solo a scendere verso la piazza principale una vicenda che tra le altre cose conferma come in questa città non si possa proporre nulla di nuovo a prescindere dai benefici che queste novità possano eventualmente produrre che immediatamente ed in via preventiva a scattare per prima e senza averne verificato la bontà delle decisioni sono le proteste e le polemiche a volte anche feroci oddio qualche erroruccio e qualche inevitabile correzione va assolutamente apportata alle scelte imposte dall'amministrazione comunale ma a chiedere ogni volta le dimissioni in massa dell'intera giunta che governa la città ad ogni piezzo spinto francamente ci sembra esagerato ed oggettivamente anche e soprattutto strumentale tornando invece alle novità in ambito di traffico veicolare in città e le ripercussioni pratiche ed anche ideologiche che ne sono scaturite l'argomento è stato al centro della puntata di Agora andata in onda ieri sera su Canale 10 il rotocalco settimanale della nostra redazione giornalistica ha ospitato un parterre ricco e titolato assieme al conduttore infatti hanno impreziosito il salotto televisivo di Agora due amministratori altrettanti rappresentanti dei comitati di quartiere un politico ed il presidente del consorzio di commercianti del centro storico in particolare a dibattere dell'argomento del giorno che sta tenendo Banco in città sono stati l'assessore alla viabilità del comune di Gela Eugenio Catania che nel difendere il nuovo piano di mobilità urbana si è comunque reso disponibile ad addivenire a quelle correzioni che si riterranno opportune e quindi l'assessore ai lavori pubblici Flavio Di Francesco che invece ha risposto alle tante esigenze che i vari quartieri cittadini hanno esposto attraverso i loro massimi esponenti dei comitati rispettivi e quindi i presidenti dei comitati stessi ossia quello del centro storico Giuseppe Filetti e di Macchitella Livio Aliotta a completare il nutrito parterre di ospiti il segretario cittadino dell'Udc e proponente della raccolta di firme per abrogare parte del nuovo piano di mobilità urbana ossia Totò in Cardona ed il presidente del consorzio Gela Centro Valentino Granvillano Ad aprire l'interessante puntata di Agorà l'altrettanto interessante scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro chi volesse rivedere questa interessante trasmissione di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di Canale 10 Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che come sempre riguarderanno Gela ed i gelesi Macabra scoperta ieri sera in un garage del quartiere San Giacomo a Gela un cinquantenne si è impiccato inutili i tentativi dei soccorritori nessuno riesce a spiegare al momento le ragioni del gesto l'uomo lavorava alle dipendenze di un supermercato e non soffriva di alcuna patologia due arresti e altrettante denunce il bilancio della polizia di Gela nelle ultime ore il 26enne Simone Rinella è stato arrestato per scontare tre mesi di carcere per evasione deve espiare 11 mesi per guida senza patente resistenza pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni della soviglianza speciale di pubblica sicurezza benito peritore di 41 anni un 55enne è stato denunciato per minacce e ingiurie mentre un giovane di 23 anni per non avere comunicato alle autorità competenti lo svolgimento di una manifestazione sportiva e i carabinieri di Niscemi hanno denunciato 6 persone per la ricettazione durante una perquisizione effettuata dopo la denuncia di un 82enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato cellulari assegni ed altro materiale che erano stati rubati dall'abitazione del pensionato dalla descrizione precisa e attenta degli oggetti sottratti all'uomo i carabinieri dopo un anno di indagine sono riusciti a risalire agli autori coniugare geologia e sviluppo economico una scommessa da affrontare tra tante incognite tra le quali quella della mancanza di risorse è l'obiettivo che l'ordine regionale dei geologi presieduto dal gelese Giuseppe Collura si è previssato nell'ambito dell'iniziativa che si svolge a Butera dal titolo Borghi e Pesaggi disseste e valorizzazione il geosito di Monte San Nicola il nostro obiettivo attraverso questo protocollo di collaborazione è quello di coniugare la necessità diciamo di messa in sicurezza il territorio al rischio idrogeologico con la valorizzazione dei beni paesaggistici il geosito di Monte San Nicola ha anche le spiagge rispetto a fenomeni di arretramento di dissesto molto grafico noi ci troviamo in una situazione che l'errazione marittima che accende la nostra costa non viene diciamo affrontata dalla regione come un momento di ripresa e ripascimento delle nostre spiagge e della nostra costa che purtroppo ha danneggiato fortemente il nostro litorale e che se consideriamo che gli insediamenti turistici che ci sono nel nostro territorio sono importanti di grande attrazione e quindi sono molto presenti una quantità di persone circa 120.000 presenze l'anno purtroppo ancora noi dobbiamo inseguire la regione che non riesce a fare nessun tipo di intervento a favore del recupero della nostra spiaggia e la sindaco di Butera Luigi Casisi a ottobre noi faremo una giornata nella giornata mondiale del mondo geologico faremo una giornata dove andremo a posizionare la targa in quel sito per farlo riconoscere soprattutto alle scuole convergendo tutte le scuole del territorio questo riconoscimento soprattutto ci permetterà non solo di essere dichiarato come patrimonio dell'UNESCO geografic geologici ma soprattutto ci permetterà di far conoscere gli interi territori attraverso anche una rete di comuni far conoscere il patrimonio artistico e culturale del nostro comprensorio le georisorse devono diventare un volano di sviluppo lo dice il vice sindaco di Butera culturalmente il nostro territorio ha acquisito un'importanza ancora maggiore perché il geosito consideri che fra i primi tre a livello internazionale per importanza abbiamo reperti archeologici abbiamo ricchezze enogastronomiche e come puoi immaginare una cultura a 360 gradi che speriamo di poter diffondere e poter promuovere il nostro territorio a 360 gradi e farlo conoscere al resto del mondo questa mattina si è tenuta una escursione guidata a Monte San Nicola e al Borgo Pozzillo dal 22 al 29 maggio prossimi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21 nei locali dell'ex educatorio Regina Margherita di Gela si trarrà la mostra d'arte a mani nude l'arte nella cultura e nelle tradizioni contadine e artigianali gelesi l'iniziativa è della associazione culturale SMAF preseduta da Gaetano Davide Arizzi e in edicola il Corriere di Gela lo vediamo dalle immagini settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro accertata la presenza di arsenico nella popolazione gelese grazie allo studio Sebiomag condotto qualche anno fa dalla professora Bianchi dal CNR si avvia nel territorio un nuovo studio stavolta per individuare il tipo di arsenico riscontrato Nero Lombardo ne ha parlato con il professor Bianchi e col dottore Migliore e il servizio con cui il giornale apre la prima pagina di questa settimana i due segretari cittadini del PD di Cristina e Colorà dicono di essere interessati alla riconciliazione fra le due anime inquiete del partito le posizioni non sono ancora del tutto convergenti ma l'uno e l'altro dicono di essere sulla buona strada Nero Lombardo li incontra e ne viene fuori un'intervista vivace e assai interessante mantiene l'attualità la vicenda sulla legge di riforma dell'ex provincia i comitati e i sindaci non ci stanno dichiarano guerra al governatore Crocetta e studiano nuove iniziative a difesa della volontà popolare che vuole l'adesione di Gela alla città metropolitana di Catania altro argomento in prima pagina anche Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale si mantiene sul pezzo commentando alla sua maniera le ultime digrazioni del presidente della regione all'interno altri articoli di attualità e cultura tra gli altri quelli a firma di Lucrezia Ferro Cinzia Sciagura e Gianni Virgadaula nello sport Orazio Accomando intervista il bomber del Gela Maurizio Nassi in ultima pagina e la vediamo gli annunci economici gratuiti ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi di un altro appuntamento inserito nel cartellone della primavera dell'arte la primavera dell'arte promossa dal gruppo Geloi Trischelion di Gela raggiunge un altro obiettivo ieri nei locali del museo è stata inaugurata una mostra archeologica con reperti inediti i beni sono custoditi all'interno di alcune vetrine offerte dal Kivanis Club noi come Kivanis riteniamo giusto agire sul territorio e nel territorio quindi in questo caso donando queste vetrine vogliamo essere presenti nel territorio e specialmente in un territorio con il museo archeologico di Gela che secondo me rispetto a tante altre cose non ha i meriti che gli spettano per i reperti archeologici che ci sono non solo esposti ma che ci sono conservati che sono più di 5.000 reperti speriamo che anche altri ci seguano come esempio per valorizzare sempre appunto le risorse che ci sono nella città anche perché in un periodo di crisi gallopante a Gela con la chiusura della raffineria si deve puntare sul turismo speriamo di sì che speriamo anche come un'altra risorsa che si aggiunge a quella esistente all'iniziativa di ieri erano presenti gli alunni del liceo artistico di Gela Ettore Maiorana i musei visti come grandi cassaforti che contengono beni straordinari dal punto di vista artistico culturale questa cassaforte con mille lacciuoli codici segreti il cui accesso è consentito solo a specialisti del settore va cambiato deve diventare un grande scrigno straordinario magico da scoprire in modo ludico infatti i ragazzi nei prossimi anni dopo questo momento di conoscenza dei beni si occuperanno di realizzare inventare giochi da sottoporre ai ragazzini delle scuole elementari per scoprire questi beni in modo appunto ludico e divertente le iniziative della primavera dell'arte continuano 21 maggio si chiude con un grande evento la visita notturna delle fortificazioni greche di capo soprano ci saranno ragazzi del gruppo teatro dei geloi si farà appunto questa visita che sarà molto particolare attraverso degli effetti scenici unici quindi vi invito a partecipare l'ingresso è gratuito oggi alle 18.30 nell'auditorium dell'eliceo classico Eschilo di Gela è prevista la presentazione del libro di Silvia Scolla al valico dell'orizzonte l'iniziativa è stata promossa dall'unitre presiduta da Angela Scaglione sabato 21 maggio alle 18.30 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi sempre a Gela sarà presente Simona Loiacono finalista del premio strega 2016 presenterà le streghe di Lenza Vacche invadiamo la torre di Manfria è l'iniziativa che si darà domani dalle 16 alle 20 promossa dall'archeoclub di Gela guidati dai soci i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione i cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati nel 1615 che è stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia abbiamo approntato tutta una serie di situazioni per la sicurezza perché dobbiamo sapere che questa torre è abbandonata totalmente abbandonata e di proprietà privata e di conseguenza con l'avallo del proprietario abbiamo realizzato questa situazione di sicurezza in maniera tale che tutti possono venirla a visitare è proprio una invasione vera e propria nell'ambito dell'iniziativa di domani sarà avviata anche una raccolta di firme per chiedere l'esproprio del bene per pubblica utilità le drammatiche condizioni in cui versa la torre rischiano infatti di impedirne la conservazione per le generazioni future questa torre dovrebbe essere acquisita dall'istituzione infatti il motivo di questa invasione della torre di manvia che faremo domani è quello di raccogliere delle firme per invogliare l'istituzione comune di Gela e l'istituzione regione siciliana per l'acquisizione di questa torre la torre e il terreno sono di proprietà private e di conseguenza bisogna trovare un sistema per far sì che questa torre faccia parte del pubblico di mania anche perché così facendo sarebbe fruibile a tutti ma non solo si recupererebbe una delle 37 torre più importanti delle 200 che costituivano quel sistema di controllo e segnalazione che nel giro addirittura di un'ora andava a toccare tutti i porti della Sicilia ovviamente stiamo parlando della torre di manvia come torre di segnalazione infatti era collegata con la torre di Falconara e con la torre dell'insegna che adesso non esiste più e con la torre di Santa Croce Camerina poi attraverso delle torri intermedie quella dei padri Cappuccini e quella della chiesa madre si avvisava la città e la campagna circostante in modo tale che quando si avvistavano le navi sarecene e le navi pirate la popolazione veniva messa a sicuro sabato 21 maggio alle 9 sarà proiettato al cinema antidoto di Gela con ingresso libero il film La storia di Loretta un'atleta speciale l'iniziativa promossa dalla sollezione sportiva Orizzonte Gela presieduta da Natale Salucci ha una valenza culturale e sociale vuole fare conoscere i valori di Special Olympics e invitare i gelesi a scendere in campo e a giocare la partita dell'integrazione per concretizzare azioni realmente inclusive riconoscendo e valorizzando le diversità ed appuntamento col teatro all'antitodo di Macchitella sabato 21 maggio alle 21 sarà proposto attenti a quei due con Emanuele Giammusso Guilamo Greco e Lori Ardore ricordiamo ancora una volta che le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buono fine settimana appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti Grazie a tutti